Ok, anche il prossimo pezzo sarà sul nostro nuovo album, parla di una condizione in cui diciamo io mi trovo, però poi chi lo dice alla fine non è detto che quelli ciechi sono solo quelli col bastone bianco, c'è tanta gente che non vede al di là del proprio naso, questa è Blind People. Blind People Non vedono niente 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 Grazie.